Grazie a tutti. Hanno deciso di diventare forse maggiorenni, forse per la prima volta c'è un congresso che non è nemmeno spaccato, probabilmente contro la solita linea pannelliana che il pannello non si è nemmeno degnato di venire a salutare i suoi compagni in quello che è il suo congresso. Penso che vada tutto bene così, anche se tra domani e domani pomeriggio vedremo delle scintille. Penso che comunque sia una bella reazione nei confronti di chi in qualche modo ha imposto sempre la sua politica, l'ha fatta sempre con grande slancio, per fortuna l'ha sempre fatto, però stavolta il congresso decide di allontanarsi un po' da queste imposizioni. Grazie Roberto Marzialetti.